Quando parliamo di colazione le uova non possono mancare. C'è stata fatta confusione negli anni, nel 1984 sul Times è uscita una notizia che poi si è rivelata falsa che diceva che le uova avevano correlazione con le malattie cardiovascolari. Ci sono voluti anni e solo nel 1999 il Times ha smentito la sua stessa notizia dicendo no. Attenzione, addirittura il consumo di 4 uova al giorno migliora il colesterolo buono e abbassa il colesterolo cattivo. Se ovviamente l'alimentazione non ha un eccesso di zuccheri perché ricordiamoci che sono gli zuccheri che fanno aumentare i livelli di colesterolo. La mia colazione è composta infatti da uova, molto spesso durante la settimana da uova, quante ne volete a sazietà. E poi ci potete abbinare dell'avocado o della frutta come frutti di bosco, in questo caso il cocomero che ha pochissimi zuccheri.